Siamo con Francesco Soltanè, numero 2 della Torta e Teste. Allora Francesco, avete vinto 3-1 contro la Romulia, conquistato la semifinale. Quali sono le tue sensazioni e le sensazioni della squadra? Allora, le nostre sensazioni... siamo molto gioiosi, abbiamo vinto e siamo molto felici. Ci andiamo a prendere quello che ci spetta. Senti, per quanto riguarda la gara contro la Romulia, ed è iniziato bene, nel finale forse avete mollato un pochino la presa, o almeno questa è stata la mia sensazione. Non so se tu sei d'accordo. Sì, sì, sarò d'accordo. Secondo te a chi è dovuto? È dovuto perché era una partita molto sporca, si può dire, negli ultimi dieci minuti eravamo un po' stanchi. Obiettivo del torneo, visto che insomma avete raggiunto le semifinali? Vincerlo. Ci credete? Certo, sempre. Va benissimo, allora io ti ringrazio e ti faccio un grande in bocca al lupo. Grazie, ciao.